Ciao e benvenuto a questa nuova videopillola in cui stai vedendo una cosa diversa dal solito non ho la mia classica camicia bianca, ho una camicia azzurrina perché questa cosa? Cosa dipende? Ovviamente non è che la camicia bianca era sporca o l'avevo finita perché ne ho bizzeffe, tanto ormai lo sai come sono vestito camicia bianca, gilet blu scuro, quindi perché stasera ho la camicia azzurra? Te lo dico subito dopo averti presentato un slide che mostro nel circolo elettricisti illuminati guardiamolo assieme, ecco qua, qui ci sono due tipologie di contatori al di là del fatto che sono ancora i vecchi modelli, ma quello che a me interessa è un'altra cosa questo contatore, uno di questi contatori sulla sinistra è diverso rispetto a uno dei due contatori sulla destra qual è la differenza? La noti? La vedi? Guarda un po' qui, qui c'è una levetta e qua non c'è la levetta perché? Cosa cambia? Scrivimelo nei commenti, poi dopo te lo dico cos'è che cambia ma intanto scrivimelo nei commenti ed ora il perché della camicia azzurra come puoi vedere qui c'è una domanda messa nel coso azzurro quindi mi sono messo la camicia azzurra sono un idiota, va bene, però mi diverto così con poco ciao, al prossimo video